Poi prima il burro ce l'ho fatto, vedi è una persona a te, anche io sono una palghezzata, lui mi ricordo che si aveva tutte le volte, tra me e lui si giocava sempre poche volte insieme, si faceva cliccato il burro. La mia schiena mi portava di spettra, si incazzava, non ci prendia qualcosa che volevo dire, perché anche io ho panghezzicato, panghezzicato, scendendo.